Appello alla neopresidente del Senato Maria Elisabetta Casellati da parte dei lavoratori dei musei civici veneziani che temono di perdere il posto in seguito al nuovo bando sull'affidamento di alcuni servizi. La consigliera PD Monica Sambo ha consegnato alla senatrice una lettera firmata da sei ex dipendenti non riassunti dal nuovo consorzio. La senatrice ha accolto di ricevere la lettera speriamo anche perché nel suo discorso oggi si è rivolta soprattutto alle donne e anche soprattutto alla precarietà nel lavoro ma anche alimentare. Di conseguenza noi speriamo che dalle sue parole potrà anche intervenire per aiutare questa situazione che si è creata e quindi cercare di intercedere con le nuove società per far sì che tutti i lavoratori ma soprattutto ripeto tutte le lavoratrici possano essere di nuovo assunte dai musei civici. La nuova azienda si legge nella missiva ha riassunto solo i lavoratori disposti a rinunciare all'anzianità e ai minimi garantiti dei precedenti appalti mentre per gli altri si è aperta la solitudine della perdita del posto. Questa stessa sorte potrebbe capitare a centinaia di loro colleghi. Più di un terzo dei lavoratori dei bookshop non è stato confermato. Si apre così una prospettiva terribile per i 400 che sono in attesa degli altri tre settori che devono essere in qualche modo assegnati e quindi sono tutti un po' in fibrillazione e temono appunto per il loro posto di lavoro.